Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro intrattenitore. Allora ragazzi, oggi video un po' diverso da solito in quanto darò una mia recensione, un mio parere su questa azienda, ovvero la GLS. Un'azienda che si occupa ovviamente di trasporto merci e ovviamente di consegna pacchi. Stiamo parlando del Corriere Espresso, quindi GLS, che è uno dei più famosi in Italia insieme a Bartolini, OPS, TNT, comunque veramente tra i corrieri, insomma GLS è anche uno dei più famosi. Premetto che pacchi consegnati tramite GLS ne ho ricevuti abbastanza pochi, però tramite questi pochi pacchi ho ricevuto o mi sono fatto una idea di questo Corriere, che è per lo più negativa. Allora praticamente vi racconto in breve un po' la mia ultima esperienza che tuttora sta durando. Io ho ordinato un pacco esattamente il 21 settembre, giovedì, e quindi già venerdì era praticamente pronto ed è partito. Nonostante tutto sia passata l'intera settimana successiva, io per vari motivi praticamente non ho ricevuto il pacco. Ho qui, insomma, il tracking a disposizione della ricerca a spedizione di GLS, dove praticamente dice appunto che è partito il pacco da Latina il 26.09.2017. Il 26 è praticamente equivale a martedì. Martedì è partito, martedì alle 19.24. Considerando che già era arrivato il giorno 28, quindi praticamente giovedì 28, nella sete destinataria, nonostante tutto sia venerdì che lunedì, quindi oggi, non è arrivato il pacco, questo per vari motivi. Come vedete qui tra lo Stato si legge consegna prevista per il giorno lavorativo successivo, e questo appunto il 28, ovvero giovedì. Quindi il pacco doveva arrivare venerdì 29, ma così non è stato, in quanto venerdì 29, alle 16.16, mi compare un'altra volta consegna prevista per il giorno lavorativo successivo. Quindi dovrò aspettare, o aspettato anzi, il fine settimana, senza ricevere questo pacco, e ad oggi, lunedì, quindi doveva essere necessariamente oggi, giorno della consegna, è comparsa appunto lo Stato destinatario chiuso, consegna prevista per il giorno lavorativo successivo. Ora, sicuramente il pacco mi arriverà domani, su questo non ho dubbi, ma tutti questi ritardi sono accoppiati anche dall'impossibilità di contattare il servizio clienti GLS, soprattutto della sete destinataria, in quanto non risponde nessuno. Sono addirittura stato proprio nell'azienda, nel punto destinatario di GLS, ho parlato appunto con i dipendenti, che si sono rivolti, insomma, in maniera abbastanza aggressiva nei miei confronti. Avevo chiesto anche se potevo ritirare il pacco proprio lì, ma mi avevano detto che non era possibile, non so per quale motivo, ma fatto sta che mi hanno mandato a casa praticamente senza il pacco, nonostante tutto fosse proprio lì. Sono cercato un po' su internet, su Trustpilot, e ho visto un po' le recensioni di GLS. In pratica, GLS è veramente quotato bassissimo, ovvero 0,9 su 10, su 833 recensioni. Quindi comunque la valutazione è veramente scarsa, e quindi non è un pensiero prettamente personale, ma diciamo un po' più condivisa come idea. Ho cercato anche altri, ovviamente altri corrieri, tra cui BRT, che è quadro anche basso, anche se nonostante tutto a 135, non 800 recensioni. Qua è quadro 1,8 su 10, quindi sempre un po' più dello 0,9, dato che qui ci sono ben 833 valutazioni. Certo, non danno una idea definitiva, perché come può essere GLS, ma anche BRT, possono consegnare anche in un giorno lavorativo, e il pacco può arrivare subito, in orario, o quant'altro. Questo dipende ovviamente dalle sedi destinatarie, ma tutto sommato io non mi sento di consigliarvi comunque questo corriere né per spedire pacchi né per riceverli, né se acquistate da negozi che spediscono tramite GLS. Cercate di farveli spedire in altro modo, dato che comunque penso che tra i più famosi, cui ho aperto appunto BRT, UPS, TNT, sono tutti quadrati scarsi, ma tra tutti penso che GLS sia uno dei peggiori, se non il peggiore. Quindi questa qui è stata la mia brevissima esperienza. Il pacco che mi arriverà domani, ragazzi, ovviamente è un pacco che vi mostrerò, ne parlerò, sarà un pacco veramente molto importante, una cosa a cui tengo tantissimo, e nel prossimo video vi svelerò, insomma, di cosa si tratta. Spero che la mia piccola chiacchierata, la mia piccola recensione sia stata di vostro gradimento. Per qualsiasi commento, per qualsiasi, insomma, esperienza vostra, scrivete giù nei commenti e magari ne parliamo assieme, magari per vedere che esperienze avete avuto voi con questo corriere. Alla prossima, ragazzi!